Quindi penso un po' da qui svolto l'esistenziale E' suonato in quattro quarti tranne questa parte E poi dopo mezza strofa il rito nello fa Se ti stendi ma devi andare all'ospedale Troverai del personale messo apposta per me No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Grazie.